Ciao, sono Gabriele e sono le percussioni. Le percussioni è quella famiglia di strumenti che comprende il maggior numero di strumenti, appunto. Ci sono le percussioni a suono determinato e le percussioni a suono indeterminato. Le percussioni a suono determinato sono le percussioni a tastiera, come ad esempio la marimba. Il vibrafono. Sentite ora come con l'uso del motore io riesco a ottenere un suono vibrato. E' appunto da questo il nome vibrafono. L'oxilofono e il glockenspiel. Le percussioni a suono indeterminato sono invece quelle percussioni a pelle, come il tamburo. E le percussioni a metallo, come ad esempio il tan-tam o i piatti. Un'eccezione delle percussioni a suono indeterminato è dato dai timpani. Infatti sono percussioni a pelle, ma grazie all'uso del pedale io posso produrre delle note.